cari amici di total photoshop ben ritrovati benvenuti a questo nuovo videocorso dedicato a wordpress e più in particolare all'e-commerce all'e-commerce secondo wordpress il titolo infatti del videocorso è il tuo negozio online con v commerce v commerce è un plugin è un plugin che aggiunge una funzionalità non indifferente ci sono plugin di peso differente abbiamo visto in passato bodypress che trasforma il nostro sito in una community in un vero e proprio social network questo v commerce è anche questo veramente un plugin di spessore che aggiunge un elemento così importante per un sito internet come l'e-commerce diciamo che penso che molti di noi o quasi tutti noi hanno pensato di vendere qualcosa sul proprio sito almeno una volta di provare a sfruttare queste grandi possibilità che la rete ci dà quindi di avere un pubblico potenzialmente infinito e di vendere quello che abbiamo da vendere il problema è che ci siamo sempre scontrati con difficoltà tecniche o costi di realizzazione di un e-commerce che fino a poco tempo fa davvero poco parliamo di pochi anni era riservato ai pochi come dire preparati tecnicamente oppure era necessario davvero un investimento perché la realizzazione di un e-commerce poteva costare ovviamente svariate migliaia di euro è un qualcosa che ha valore effettivamente quindi se lo fate per mestiere realizzate un e-commerce per qualcun altro per qualcun altro è ovvio che dei costi comunque ha valore questo sviluppo quello che vedremo però con questo corso è come realizzare un e-commerce per noi o per i nostri clienti con la semplicità l'intuitività di v-commerce v-commerce ci dà la possibilità prima di tutto di vendere ogni tipo di prodotto potremmo aggiungere dei prodotti classici come una t-shirt ok e quindi impostarne modelli per esempio piuttosto che impostare ovviamente l'iva le tasse le spese di spedizione potremmo gestire il magazzino potremmo andare a visualizzare poi quelli che sono i risultati delle nostre vendite quindi fare un'analisi anche dell'andamento del nostro store potremmo fare tutto questo davvero con la semplicità che è tipica di wordpress alle spalle del plugin v-commerce c'è un'azienda che è v-teams che sviluppa plugin davvero di qualità è seguitissimo ci sono molti plugin aggiuntivi per completare per aggiungere praticamente funzionalità a questo store al vostro store vi dicevo che potete potrete vendere qualunque cosa ovvero dal prodotto classico della t-shirt ma potremmo vendere dei semplici servizi ok quindi lasciare che il vostro utente acquisti per esempio una vostra consulenza piuttosto che dei prodotti in download quindi voi mettete in vendita un software o qualunque cosa voi abbiate realizzato da poter scaricare e quindi mettere a disposizione il download di questi file solo nel momento in cui avrete incassato praticamente dal vostro utente tenete presente che potrete impostare anche differenti sistemi di pagamento insomma tutto questo è v-commerce quindi state con me si parte subito da qui a poco tempo ma davvero poco avrete a disposizione uno strumento di vendita da utilizzare sul vostro sito e quindi metterci in affari